ciao ragazzi bentrovati allora questa sera non siamo qui per la seconda parte del video che ho fatto l'altro giorno sui miei film preferiti questa la vedrete fra fra pochissimo tempo insieme ai nuovi acquisti ma stasera siamo qui per vedere la dodicesima uscita della lignarta di cinemuseum è un film horror del 1990 e sto parlando di perciò tuffiamoci in questa in questa nuova uscita o meglio galleggiamo per questa nuova uscita ed ecco voi it edizione fu slip lenticolare stupendo vedete qua tim curry che interpreta penny wise il clown stupenda edizione qui sulla costina laterale la scritta it in rilievo e dietro bellissima un lavoro straordinario io ci tengo a ringraziare il tutti tutto il gruppo di cinemuseum che esegue delle opere straordinarie ci regala queste perle perciò un grazie a carlo roberto e rita che ci danno dentro come non mai e i progetti sono sempre all'ordine del giorno guardate che bella questa edizione cioè il dietro il retro l'effetto stupendo e poi come ogni edizione cinemuseum che si rispetti anche sopra abbiamo il simbolo in questo caso la barchetta di giorgi non poteva essere da meno edizione numerata in questo caso a 400 copie questa è la numero 336 ho il numero in esclusiva di tutte le uscite perciò per avere la stessa la stessa lo stesso numero la stessa tiratura e poi che cosa contiene la fusil adesso vi faccio vedere allora contiene la steve che non è come al solito esclusiva cinemuseum è quella uscita per il mercato italiano uscita qualche anno fa questa è la mini serie ricordo del 1990 e non l'ultimo it uscito uscito il secondo capitolo che ha concluso il cerchio di muschietti ma questo qui 1990 mini serie con tim carrie che interpreta appunto penny wise e prima di vedere il tutto cosa dire questa mini serie che molti l'hanno hanno detto che faceva schifo insomma era una porcheria a me è piaciuta sia ai tempi che l'ho vista mi ricordo che c'erano delle delle scene che forse perché era anche più piccolo ma anche rivederlo adesso fa sempre piacere rivederlo e comunque ha il suo perché questo questo io poi ho letto anche il libro perciò più di 1200 pagine fantastico e rivedere tim carrie nei panni del del pagliaccio assassino ha sempre una certa attenzione che fai non saluti non vuoi dirmi ciao non vuoi dirmi ciao non lo vuoi un bel palloncino colorato bene allora proseguiamo col contenuto della full slip allora ho detto la la steelbook appunto che non è esclusiva cinemuseum ma abbiamo il solito libricino fotografico anche in questo caso bellissimo guardate che bello giorgico palloncino con all'interno la faccia del pagliaccio ed eccolo qui lui nascosto nelle fogne con la barchetta che cade e qui il nostro book fotografico c'erano delle scene anche questa qui del lavandino che mamma mia mi ricordo questa che mi inquietava e questa cioè quando lui esce direttamente dal dal buco della doccia cioè mamma mia queste due erano quelle che mi avevano preso di più il trucco era fantastico di tim carrie a me è piaciuto anche l'ultimo che è uscito al cinema la seconda parte un po meno perché la prima era di un altro livello secondo me e questa miniserie si lascia vedere personalmente la ricordo con con molto ma molto piacere poi oltre l'art book abbiamo le solite cartoline che ci regala cinemuseum molto belle che riprende la locandina del film e poi abbiamo anche come ogni edizione che si rispetti un gadget in questo caso nella sua bustina vedete qua pennywise e all'interno abbiamo la piantina della città di terry dove avvengono i fatti terry nel main bene ragazzi questo video unboxing velocissimo finisce qua io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo prestissimo ciao ragazzi buona serata